Grave atto intimidatorio allo SPI CGL di Piombino. A farne le spese la sede periferica del sindacato pensionati, la quale nella mattinata odierna ha registrato danneggiamenti nella propria filiale e preso atto di offese scritte su cartelli debitamente affissi in facciata. Un fatto gravissimo che segue l'attentato dell'estrema destra alla sede generale della CGL. I nostri collaboratori alle 8 e un quarto si sono presentati qui alla sede per aprire, come fanno tutte le mattine, per aprire la sede. Hanno provato a inserire la chiave nella serratura, la chiave non entrava. Primo pensiero, si è rotta la chiave dentro, qualcuno ha rotto la chiave dentro e poi si sono accorti che invece era stato fatto qualcosa di premeditato, la serratura era stata riempita di colla e non era più utilizzabile. In più abbiamo trovato un paio di manifesti, ma erano degli adesivi fatti in casa, si vede che non erano con scritte, offese, sindacato infame, cose secondo me delle idiozie assolutamente, però comunque che ci offendevano in maniera diretta la CGL e lo SPCGL. Non ci fermeranno, andremo avanti con la forza ed il coraggio di sempre, convinti che i rigurgiti fascisti non solo appartengano alla storia passata, ma siano oltre modo indice di inaccettabile arroganza. Il nostro operato va avanti come andava avanti nei giorni passati, assolutamente non ci lasceremo intimidire da questi atti.